Quali sono i tipi di redditi? Noi ne abbiamo selezionati 4. Annualmente l'associazione di categoria CISL di Fano consegna un report dove analizza attraverso il gettito dell'addizionale IPEF nei vari comuni lo stato di salute socio-economica del territorio e dopo le dovute considerazioni in maniera propositiva alle parti sociali e politiche della città affida anche le possibili strade da percorrere per invertire la tendenza o tutelare le fasce deboli della società come anziani e persone sole. La fotografia immediata che ne esce da quest'ultima analisi incrociando i dati delle dichiarazioni 2018 e di un nuovo portale ministeriale del MEF dove sono riportati i dati di tutti i comuni d'Italia è che purtroppo la forbice del divario sociale si va ampliando ancora di più rispetto all'anno precedente. I redditi che superano a Fano i 120.000 euro sono passati da 293 a 305 mentre in basso chi è a reddito minore o uguale a zero è passato da 164 a 392. La città di Fano dà una fotografia di un territorio fondamentalmente in salute perché è aumentato il gettito dell'IRPEF comunale, sono aumentati i redditi alti, medio-alti sicuramente c'è ancora una fascia di povertà perché sono diminuiti i redditi zero e i redditi da zero 10.000 euro. Con una liquida a IRPEF allo 0,80 chiediamo alla nuova amministrazione comunale di iniziare a lavorare per una rimodulazione dell'IRPEF o a scaglioni oppure per prevedere delle fasce di salvaguardia per i redditi bassi. A farsi carico di mettere i dati estrapolati ed analizzarli attraverso moduli statistici, come sempre gli studenti delle battistiche in alternanza scuola-lavoro da marzo scorso stanno lavorando a questo progetto. Allora qual è stata la difficoltà maggiore di fare questa analisi? A primo impatto vedendo tutti i dati insieme estrapolarli, appena abbiamo trovato il modo di estrapolare quei dati ci è solo bastato riorganizzarli in una nuova tabella. Tempi per metterli in pratica? Una settimana e mezzo più o meno perché abbiamo dovuto spostare tutti i dati da una tabella all'altra, da un foglio Excel all'altro cioè è stato quello il lavoro più lungo, se no fare la tabella è stato abbastanza semplice. Allora è un po' che collaborate con la CIS, vi piace questa cosa? Sì, io è il terzo anno e lui il secondo. Lavorate e mettete in pratica quello che a scuola vi insegnano? Sì, senza dubbio. Esatto, anche con l'indirizzo che facciamo comunque lavoriamo spesso col computer anche qua, quindi utilizziamo quello che facciamo a scuola.